L'uomo spesso è molto fesso. Lo si potrebbe imputare ad una mancanza di intelligenza oppure ad una sbagliata educazione nell'infanzia oppure quando il cervello è molto poco ossigenato o si potrebbe trattare di una bella donna che ti ha incantato lì però sei fesso per poco solo fino a che non te ne sei andato una volta a casa tornato ti rendi conto che ci hai cacato appena riesci di casa ne vedi un'altra e sei già incastrato il fesso può essere fesso anche perché non si è applicato spesso questo fa sì che il fesso rimanga fesso anche adesso l'uomo spesso l'uomo spesso